Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. È ufficiale dal prossimo bienio le pensioni saranno più alte in quanto sono stati modificati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Vediamo dunque insieme i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. I lavoratori che nel corso del prossimo bienio ovvero parliamo del 2023-2024 si ritireranno dal posto lavorativo con le attuali condizioni previdenziali avranno delle pensioni leggermente più alte a parità di contributi rispetto a chi è andato in pensione nel bienio 2021-2022. Come spiega il sole 24 ore sono stati modificati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo che dunque sono più favorevoli. I coefficienti servono per stabilire la quota contributiva della pensione e riguardano nello specifico gli anni dal 2012 in poi per chi conta almeno 18 anni di contributi versati dal 1995. La quota contributiva ricordiamolo parte dal 1996 perché invece ha versato i contributi dal 1996 oppure nel 1995 aveva meno di 18 anni di contribuzione. A partire dall'anno 2019 tali valori sono stati aggiornati ogni due anni in base alla variazione della speranza di vita dei cittadini 65 anni. Nello specifico i coefficienti risultano favorevoli rispetto ai precedenti tra il 2,01 e il 2,92 per cento nella fascia di età tra i 57 e i 71 anni rispetto alla quale sono calcolati. Per esempio spiega ancora sole 24 ore si considerano due cittadini di 67 anni con lo stesso montante contributivo di 150.000 euro. Se il primo andrà in pensione nel 2022 avrà una quota contributiva di circa 643,27 euro lordi per 13 mensilità mentre se il secondo andrà nel 2023 avrà un importo pari a 660,35 euro dunque 17 euro di differenza. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per la visione!